Il 21 ottobre il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, composto dal Presidente Bruno Geraci, dalla Vicepresidente Tiziana Maglione e dal Commissario Ezio Ercole, ha incontrato a Palazzo Lascaris i rappresentanti dell'emittenza locale. Il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha aperto l'incontro nel quale gli editori di radio e tv piemontesi hanno evidenziato le cause della grave crisi del settore. È stata anche illustrata la nuova iniziativa del Corecom, la televisione che vorrei, un sondaggio sull'utenza in merito alla qualità dei contenuti dei programmi locali. Ascoltiamo il Presidente del Corecom, Bruno Ceraci. Il Corecom Piemonte, il nuovo Corecom Piemonte, ha voluto incominciare la propria attività incontrando gli operatori delle radio e delle televisioni locali della regione. Perché è questo, perché conosciamo la crisi profonda del settore, consideriamo che le voci del territorio, se incominciano a mancare, sottolineano un deficit di democrazia, quindi incominciamo un percorso comune. Noi non ci vogliamo sentire soltanto organo di controllo, ma vogliamo essere insieme ad organo di controllo anche degli amici in un viaggio che credo possa tornare utile, sia a noi Corecom che alle televisioni e alle radio private.